Buongiorno signore e signore, sono Daniele del Cosa Ottimo in Mediare e sono molto felice di presentarvi questo nuovo appartamento in vendita sul lago di Como. La struttura dispone due camere di letto, un bagno, un terrazzo molto ampio e una splendida vista sul lago. Vieni con me da dare un'anchiata. Grazie a tutti. Grazie per avervi venuto sul tour. Ho spero che avete piaciuto. Come vedete, è un bello giorno in Lago Como, Italia. Se siete interessati a sapere di questo luogo, ringrazio o un'e-mail. Abbiamo il link in sotto. E voglio che vi un bello giorno. Abbiamo piaciuto un bello giorno. Buona giornata.